trucchi gta san andreas sei pronto a diventare il boss di san andreas allora non puoi perderti questo video scopri i trucchi più incredibili e segreti di gta san andreas per xbox 360 che ti permetteranno di fare tutto ciò che desideri senza alcun limite con i trucchi giusti potrai avere accesso a veicoli unici armi letali potenziamenti del personaggio e molto altro ancora i tuoi nemici non avranno mai più una possibilità e il bello è che puoi farlo tutto sulla tua xbox 360 in questo video ti mostreremo passo dopo passo come inserire i trucchi sul tuo gioco e come sfruttarli al meglio per dominare san andreas non devi essere un esperto di videogiochi per utilizzare questi trucchi basta seguire le istruzioni e lasciare che la magia accada inoltre scoprirai anche alcuni trucchi che probabilmente non hai mai sentito prima sfrutta le combo giuste e sblocca i veicoli più bizzarri e interessanti divertiti a volare sulle auto a guidare i carri armati a saltare sui tetti e molto altro ancora ma non solo i nostri trucchi ti permetteranno di superare facilmente le missioni più difficili del gioco non avrai più bisogno di fare inutili tentativi per completare le missioni che ti sembravano impossibili ti mostreremo come fare come sembrare un professionista nel farlo non perdere altro tempo guarda subito questo video e il re di san andreas con i trucchi più incredibili e segreti di gta san andreas per xbox 360 grazie per aver guardato questo video se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi da qui vi auguriamo una buona giornata